Un'occasione per fare il punto sullo stato della cinecologia e dell'ostetricia della BAT, analizzando le nuove frontiere tecnologiche. Sono questi i temi al centro dell'evento di due giorni, organizzato a Trani presso Palazzo San Giorgio, a cui partecipano i professionisti sanitari di entrambi i settori. Un occhio speciale quindi per le neomamme e i nascituri pugliesi. È un appuntamento annuale che il professor Volpe, famosissimo ecografista e grande professionista, organizza qui a Trani, portando un contributo importante dal punto di vista delle innovazioni, proprio perché la sfida è andare a studiare del feto quelle parti anatomiche che magari risultano più ostiche e più difficili. Grande attenzione in particolare alla BAT, dove recentemente è stato inaugurato un nuovo reparto a Biceglie, che permetterà nuovamente la nascita di bambini in città, come ad Andria e Barletta. Grande esclusa resta a Trani, dove da anni non è più possibile far nascere bambini nell'ormai ex ospedale San Nicola Pellegrino. Attualmente a Barletta, così come ad Andria, così come a Biceglie, dove si è riaperto il punto nascita, è importante considerare delle innovazioni che saranno presto motivo di orgoglio per la nostra azienda, perché si implementerà la partoanalgesia, che è un LEA, e quindi questa sfida che abbiamo iniziato circa sei mesi fa con la preparazione e la formazione del personale a questa che è una conquista delle donne e che vedeva fanalino di coda purtroppo la nostra azienda, adesso è in procinto di partire e questo mi fa sentire, diciamo così, molto soddisfatto, perché adesso è chiaro che con la difficoltà che abbiamo avuto per il numero degli anestesisti, che è sempre insufficiente, così come è successo nei pronto soccorso, adesso riusciamo con la grande sfida e con l'abnegazione di alcune figure professionali a partire con questa conquista. Inoltre questo riavvicinerà al nostro territorio le partorienti che spesso si rivolgono altrove perché trovano in altri posti proprio questa grande innovazione che è la partoanalgesia, che è una conquista proprio per le donne.